nono per iscriversi ok grazie vieni com'è? porto la borsa beh andiamo a prendere il caffè al bar dai va al mare? va al mare la fame è la che si faceva in salita adesso la facciamo in scesa guarda infatti quando finisce vai a portare un percorso vai a salire tutta un'altra roba eh salire più ma se ti scappa la pedalata che scivoli alla fine ti fermi anche in questa eh ma sarà ma non ne so no no quante bici ragazzi quante bici c'è un milione di euro non me ne so non me ne so non me ne so ma qua si affirmi o c'è non me ne so tutto tutto le campane non me ne 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 buon giro a tutti buon giro a tutti ahahahah ciao 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 io Fatti ci prova? No no ti pianti Non è male mica la pena Merda Sì, per le tre siamo passati tutti, subito le prime avversità del percorso Sozza che grotta, bellissima Sì, quando gli dai potenza, lui c'è, però quando tu non gli dai un cast, lui non c'è Sì, esatto, quindi devi anche stare attento al cambio, capito? Sì, esatto, però che si intorno a 20 portano al pittore Sì, alla fine Sì Oh oh Sì No tenhi bene Sì Grazie a tutti. Oh, tutto a posto? 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 Passo a destra scuola Grande Ale! E poi dei grandi siete Chapeau, chapeau Tanto di cappello, chapeau Una salita impestata come quella Come va in discesa? Impestata dura questa qui Andava a 160, io con l'elettrica ero a 160 E poi non finisci più Vabbè Ciao Vabbè Oh Mirkole, allora quante volte hai toccato quella pedivella? Una, due, però non è salitone Prima Grazie Solicisa Grazie a tutti. Sì. No. Questo guarda. Ci puciamo così. Sì. Merda, sta rotto. Oh, adesso un bel dente quello lì, eh. Merda. È rosso proprio. Sì. 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 Puoi anche salutarli. Sì. 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 Sei sempre l'ultimo. Fai cagare. Veramente. Che bello. Che bello. Di che hai fatto. Buona spalla. No, no. No. ampere. No. 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 Questa. Allora d'arte. In cui. Questo mi serve come spinta dopo. Siamo scesi di 400 metri in 3 secondi Siamo scesi di 500 metri in 3 secondi Siamo scesi di 500 metri in 3 secondi Sì, mi ha rotto il calcio questo canale Siamo scesi di 500 metri in 3 secondi 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 Siamo al video, vieni arrivati a Massa Bossa, a Massa Bossa. Siamo al video, vieni arrivati a Massa Bossa. Siamo al video, vieni arrivati a Massa Bossa. Siamo a Massa Bossa. Siamo a Massa Bossa. Siamo a Massa Bossa. Siamo al video, vieni arrivati a Massa Bossa. Siamo 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 a Massa Bossa.